Ringraziamo a proposito il centro commerciale Marevolti nella persona del direttore Federico Lenzi che vuole in quest'area così inconsueta cercare di organizzare eventi anche più importanti dove poter fare stadio e cultura loro sono le bravissime, le bellissime, i bing al cubo allora io le appognerai ancora un grande, ancora un grandissimo applauso ci accompagnerà di più e più tanto un applauso i bing al cubo Temptation Everything is made from dreams And it's made from happiness, no sweet I don't fully know what I mean Temptation 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 I can't resist you Temptation 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione